Musica Prima sera, 18 giugno 2012, iniziamo. Devono esprimere proprio questa violenza, quindi mi interessa in questo caso creare un inizio molto forte tra la concentrazione immobile di Risha, questo più violento, veramente quasi in maniera più violenta, così come una monade che racconta però quasi chiusa in una concentrazione zen, per cui è molto amichevole e morbida col pubblico nel raccontare queste cose, la voglio veramente, estremamente in sintonia, come se si fosse creata proprio una, ci fosse intorno a un ambiente organico. Quindi questo inserimento organico di Risha nella realtà è da invece un dolore chiuso, uno scollamento, una furia cieca, non organica, scollegata dalla realtà, che non entra in contatto. Io accolgo molto le... L'abbiamo detto insieme che ci era piaciuto il punto. Le hai detto prima tu e non l'avevo notato. Io accolgo molto quello che mi dicono le persone che la parla con me. No, perché Giuseppe è veramente... cioè quando sei snodato così... Tutto rosso lì. Allora, quindi lì c'è illuminata da sopra e da dietro, Giuseppe è da sopra e poi 4.000. E poi Giuseppe è illuminato dal lato rosso e la luce di Lisha che pian piano si spegne. Vorrei che il rosso facesse come dei lampi di luce. Ti mandi sempre da lì.